Questa specie di stanchezza della democrazia è delega di autorità, è dappertutto così nelle Filippine, in Cina, in Russia, in Turchia e poi vogliamo in fondo… Ma perché accade? Come ha fatto la Lega a permeare così dall'interno una regione come l'Emilia Romagna? Ha colto questo senso di stanchezza di cui le parlavo prima e lo ha colto anche poi, più facile cogliere l'Italia perché erano andate in crisi i partiti da più tempo, qual è stato il problema dei partiti, anche il Partito Democratico, che non hanno più i fili conduttori che avevano prima. Sono saltati gli schemi? Sono saltati gli schemi. Ma dove è stato il cortocircuito? Ma è stato dappertutto, voglio dire non ci sono più i sindacati che fanno le ACLI, i preti, le cellule comuniste, le società sportive, è tutto cambiato nel rapporto con la politica e deve essere ricostruito, tra l'altro proprio sono i nuovi media che hanno cambiato tutto.